Appuntamento per 4 giorni con il vino. Ieri a Verona ha preso il via Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato a vini e distillati. Il comparto vale in Italia oltre 12 miliardi e impiega 1 milione e 200 mila addetti. Nel 2013 ha superato i 5 miliardi di export con una crescita di oltre il 7%. L'Italia rimane infatti il primo esportatore del mondo con una quota del 21% del mercato internazionale. Vinitaly con 4100 espositori di 20 paesi riserva grande attenzione agli acquirenti stranieri che anche quest'anno dovrebbero superare le 50 mila presenze.